L'Abruzzo è sulla strada che porta dritto verso la zona bianca. Lo confermano i dati dell'unità di crisi regionale riunitasi oggi all'Aquila, in base ai quali la nostra regione dal 7 giugno potrebbe scrollarsi di dosso tutte le restrizioni, eccetto quelle che riguardano la mascherina e il distanziamento sociale. Oggi in Abruzzo 67 nuovi contagiati tra i 9 mesi e gli 89 anni d'età, di cui 31 sono residenti in provincia dell'Aquila, 17 in quella di Chieti, 11 nel Terramano e 6 nel Pescarese. Uno dei contagiati invece proviene da fuori regione. E' quanto emerso dall'analisi di 2.561 tamponi molecolari per un tasso di positività del 2,6%. Due ulteriori morti che portano il bilancio delle vittime a 2.465 e con gli ultimi 177 guariti attualmente in Abruzzo sono 5.633 positivi accertati, 113 in meno rispetto a ieri. Di questi 182 pazienti, uno in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica dove è occupato il 13% dei posti letto. In terapia intensiva i ricoverati sono invece 15, uno in meno rispetto a ieri, per un tasso di occupazione del 9%. L'indice RT di contagiosità a livello nazionale è sceso dallo 0,86 della scorsa settimana all'attuale 0,78 e da lunedì tutta l'Italia sarà zona gialla. Complici il caldo e la campagna vaccinale, un abruzzese su tre ha ricevuto la prima dose, si inizia a pregustare il ritorno alla cosiddetta normalità, tant'è che da lunedì anche gli operatori sanitari torneranno a pagare il pedaggio sulle A24 e A25. Grazie a tutti.